Tempi addietro, girovagando su Steam, quando era ancora nero e io avevo leggermente più soldi, trovai un gioco interessante, Game Developer Tycoon. Ammaliato da quella inebriante descrizione, lo comprai, lo installai e lo avviai. Cosa è tutto questo? Prima domanda, perché c'è quella che credo sia una DeLorean nel garage? Perché siamo in un garage? E perché c'è quella poster di Pong? Ma non facciamo certe domande e immergiamoci subito in questa meraviglia di gioco. Avendo a disposizione una vasta gamma di tipi, tra cui scuola, film, lupi, mannari, sport. Direi di puntare sul classico e scegliere lupi, mannari. Con un bel GDR per il PC o il G64, mai sentito in vita mia. Ok, c'è da ammettere che qui le console sono leggermente, le console come computer qui penso siano leggermente modificate perché non hanno le licenze ufficiali. Ma il G64, non ho mai sentito nulla di simile. Potremmo chiamare il gioco, lupi, mannari, la rivoluzione di cani. Aumentiamo il gameplay. Motore di gioco a merda e storie a missioni al massimo. Sono sicuro che questo gioco sarà una meraviglia. Il mio conto in banca è in rosso. Oh no! Con lupi, mannari, la rivoluzione dei cani. Forse riuscirò a... Ah, è finito. Lupi, mannari è pronto. La recensione del gioco è arrivata. Immagino cosa potranno dire. Uno spreco di soldi. Delude le aspettative. Ok. Divertente a tratti. Star Games, spero che voi moriate male mangiati dai topi perché siete stelle l'unica casa a mettermi tre. La rivoluzione del gioco ha avuto una moderata risposta delle censure. Siamo curiosi di cosa mani e mani e mani ci consegnerà in futuro. Se iniziamo così direi che il futuro promette bene. Però abbiamo venduto più copie dal previsto. Il trash fa sempre bene. E io direi di creare il nuovo gioco Animaletto Tenerello. Su animaletti virtuali. Simulazione G60. Anima... Aspettate. Animaletto Tenerello Simulator. 2000. Quindi. 201, va bene lo stesso. Siamo in rosso di 10.000 K. Gioco ritirato dal mercato. Complimenti. Lupi Mannari. La rivoluzione dei cani. Ha venduto 7.000 copie generando 55.825 K in vendita. Sono ricco. E attenzione aspettiamo le recensioni di Animaletto Tenerello Simulator 201. Perché 2015 non c'entrava. 5 divertente attratti. Delude le aspettative. Sì. Sì. Mi piace. Sì. Poteva essere meglio tua sorella. Tua sorella poteva essere meglio. Se andiamo avanti così riusciremo di sicuro a creare un'azienda. Certo. Ora abbiamo 13 ammiratori. L'avevo detto io che Animaletto Tenerello avrebbe spopolato in tutto il mondo. 21 fan. Sviluppiamo Alieni Simulator 2015. 2015 gioco bello. Alieni. Diciamo simulazione. E G64. Vediamo il nostro Alieni Simulator 2015 gioco bello. Quanto sarà piaciuto. Ecco. Le prime recensioni. Non sono più nella pelle. Bruttino. Ok. Deludente. Ai suoi momenti. Con queste votazioni. Con queste valutazioni. Più che votazioni. Arriveremo alle stelle ragazzi. Ciao. Ho appena terminato Alieni Simulator 2015. Gioco bello. E penso che tu abbia delle potenzialità. Certo. Certo. Certo.